In un periodo di ristrettezze economiche anche per le pubbliche amministrazioni aveva comunque creato più di un malumore che per risparmiare i comuni spegnessero l'illuminazione pubblica dopo la mezzanotte. Altri metodi per risparmiare ce ne sarebbero, uno di questi ad esempio la riqualificazione degli impianti di illuminazione secondo canoni di risparmio energetico, un'operazione ora possibile grazie ad uno stanziamento della regione. La Giunta ha stanziato oltre 800 mila euro per il Vicentino contro l'inquinamento luminoso. Di questi soldi 200 mila euro arriveranno nel territorio bassanese rispettivamente quasi 50 mila euro a Bassano e a Roana e altri 50 mila euro a Romano Dezzerino e Cartigliano. Secondo Finco, che è presidente della Commissione Ambientale del Consiglio regionale, questi fondi potrebbero essere utilizzati a Bassano del Grappa proprio per risolvere il problema dello spegnimento dei lampioni. 50 mila euro per un comune non sono pochi e abbiamo iniziato proprio questa strategia sia per fronteggiare il problema dell'inquinamento luminoso ma soprattutto per dare delle boccate d'ossigeno ai comuni in modo da permettere ai singoli amministratori cittadini di dare delle risposte concrete anche sul fronte della sicurezza lasciando le nostre strade illuminate. Quella dell'illuminazione pubblica è una voce che pesa nei bilanci delle amministrazioni comunali ma a decidere di tagliarla è secondo il consigliere regionale bassanese inaccettabile. Si possono tagliare in tante altre cose ma sulla sicurezza non si può togliere un euro.